Preghiera della sera Signore, che posso dire della giornata che sta finendo? Assomiglia a migliaia di giornate passate, tutte con questo scarto tra i miei progetti e la loro realizzazione. Ho voglia di giustificarmi ai tuoi occhi, di darti delle spiegazioni, proprio come faccio davanti a persone che contano. Vorrei restare a testa alta di fronte a te e devo dirmi con forza ogni giorno che questo sentirmi accusato è senza senso perché tu non mi accusi per mia fortuna. Insegnami a stare a tuo fianco perché non mi senta più di fronte a te come un accusato di fronte al giudice. Anche a me tu dici non sei il mio servo ma il mio amico. Amen.